Sì, ciao, siamo in linea con Gabriele Dei Pancreas. Paletta, ciao. Ciao, Paletta Dei Pancreas. Allora, va bene, Pancreas direi praticamente una band che non ha bisogno di nessuna presentazione per quei pochissimi che non li conoscono. L'unica cosa che mi sento di dire, storica, bella, italiana, che da più di vent'anni ormai, mi sembra, scrive la storia del punk italiano. Ecco, non volevo partire a rossire. I Pancreas, ieri sera, si trovavano dalle nostre parti, quindi in provincia di Torino, in particolare a Michelino, per partecipare, se non sbaglio, al Free Music Festival. Sì, esatto, sì, abbiamo suonato lì. Benissimo, il concerto è andato bene? Sì, sì, il concerto è andato bene, malgrado le dubole che c'erano, comunque è andato bene, la gente si è divertita molto. Beh, come al solito. Allora, al termine del concerto vi siete poi recati nell'albergo che doveva, insomma, ospitarvi, che era, se non sbaglio, l'Euro Hotel di Michelino. Esatto. E mi è successo un episodio un po' spiacevole, hai voglia di raccontarcelo? Sì, no, niente, intendo a precisare che comunque noi ogni volta che veniamo a Michelino andiamo sempre a suonare in quell'albergo e sempre quell'albergo è usato praticamente per, comunque dalla polizia, dai carabinieri, per ospitare appunto i reparti cedere, quando sono le manifestazioni, quando c'è il notario, tutto quanto, quindi si parla di albergo in convento, le 50, 100, comunque polizia, e comunque ti devo dire che non era mai successo niente. Niente, noi, nelle altre volte, noi abbiamo questa abitudine che quando finisce il concerto, quando ci troviamo in un albergo, ci troviamo in camera di uno del gruppo per farci le ultime quattro chiacchiere, le ultime risate, per parlare di come è andato il concerto, insomma, quelle cose che si fanno quando finiscono i concerti. Abbiamo fatto lo stesso anche ieri sera, il fatto sta che, niente, erano le due e mezza e niente, eravamo ancora lì a parlare, non c'è arrivata nessuna protesta, nessuno, magari capita qualche volta che andiamo in qualche albergo, magari il telefono alla reception dicendo ragazzi è abbassato un po' il tono perché c'è qualcuno che deve andare a lavorare, tutto. Ieri non c'è stata nessuna visaglia, nessuno ha bussato, il portiere non ha chiamato, infatti quindi avevamo, c'era vociare, eravamo dentro in otto in camera e quel vociare di otto persone. Al che, verso le tre, quando gli altri se ne sono andati, mi hanno andato a dormire nelle sue stanze, siamo rimasti, noi, scusami, siamo rimasti io il batterista e il fonico nella stanza. E a quel punto è successo che sentiamo battere due colpi forti sulla porta e non facevamo il tempo neanche ad alzarci, sentiamo proprio gola, tutta la gola, la trachea, gli infiammi, proprio completamente in fiammi, iniziamo a lacrimare e si capiva benissimo che ci avevano mandato qualcosa sotto la porta. Comunque quel qualcosa era sicuramente comunque un lacrimogeno, non di quelli fumosi, quelli che non si vede neanche, però super urticanti. Siamo corsi in bagno, siamo corsi in bagno, abbiamo preso delle asciugamani, ce li siamo messi in faccia, però avevamo, cioè, il terrore di uscire, cioè, non sapevamo che cazzo c'era fuori in quel corridoio. Avevamo paura che se uscivamo ci avrebbero massacrato di botte, devo dirti la verità, perché la situazione era proprio allucinante, una camera di 4 metri quadrati, completamente invasa da questo gas, con la finestra che non si aprono, perché i nuovi hotel si aprono giusto un pochettino le finestre, e niente, presi dal panico, insomma, siamo rimasti dentro, avevamo paura appunto a uscire, poi dopo dieci minuti non ce la facevamo proprio più ad uscire a rimanere dentro, allora siamo persicurati, ci siamo detti, apriamo una porta, senti, se c'è qualcuno e corriamo, andiamo giù in strada, iniziamo a strellare, insomma. Allora abbiamo preso coraggio, abbiamo aperto la porta, siamo usciti in corridoio, in corridoio non c'era nessuno, ci siamo precipitati giù di corsa, abbiamo chiamato il nostro tour manager e ci siamo presentati, abbiamo andato giù di corsa e lui ha chiamato i carabinieri di Michelino, che sono arrivati subito con una macchina, due brigadieri, sono andati con una macchina e noi eravamo giù, gli stavano spiegando il fatto. Al che, mentre spiegavamo il fatto, è sceso questo, che si è identificato come il capitano di questo reparto celere, con sei o sette di loro, tutti in borghese, sono scesi, il capitano e sentivo queste parole, proprio superarroganza, a me quelli che non mi fanno dormire mi citano sul cazzo, voi non mi avete fatto dormire, non mi avete fatto incazzare. Al che c'è uno dei due brigadieri della caserma di Michelino che avevamo chiamato, mi ha preso da parte e mi ha detto, senti, andiamo a farmi vedere questa camera, andiamo a vedere, io ecco, se io ci vengo, ci siamo con lei, però con lei, il suo collega e basta. Mi ha detto, sì sì, saliamo noi, siamo saliti, li ho portati in camera, appena siamo entrati in camera, mi hanno annunciato la crema, uno ha guardato l'altro, si sono guardati in faccia e ha detto, chiamiamo il comandante. E hanno chiamato questo tenente, adesso non mi ricordo mi ha chiamato questo tenente, che è arrivato immediatamente anche lui in hotel. Nel momento in cui è arrivato questo tenente, ci ha visto e fa, a me voi avete suonato, ah ma voi siete i pancreas? E ha detto, caspita, è il pancreas, siete in giro, ho fatto un lavoro, siete bravissimi. Nel momento in cui ha detto queste cose, lo pseudo capitano, comunque quello che si è rappresentato come il capitano di Cenerini, ha capito che non eravamo tre ragazzi che sono andati a passare la serata in albergo, ma appunto che eravamo gente che comunque era conosciuta e ha cambiato totalmente all'atteggiamento. Ha preso da parte il tour manager dicendogli, no ma forse è stato qualcuno dei miei ragazzi che ha fatto una cazzata, adesso io comunque li faccio a curo, guarda, vado a prendermi, vi prendo le chiavi, vado a prendermi le chiavi, vi prendo altre stanze, a quinto piano, mi ha detto, non ci pensare neanche, noi lì non ci entriamo. Nel frattempo c'era anche un cantante rap che aveva fatto la serata con noi, Antin Onesto, un ragazzo di Milano, anche lui, che praticamente nel trambusto, quando ha sentito che non scendolava, nel trambusto si è affacciato al corridoio per vedere cosa succedeva. Appena ha aperto la porta si è trovato un manganello al collo, si è preso quattro spiafoni, è finito dentro, seduto dentro nel suo cesso, seguito da questa frase, fatti i cazzi tuoi, e ha chiuso la porta. Lui ovviamente è sceso, ho l'argomento al fatturo, poi mi hanno picchiato e tutto quanto, mi vedi ancora? Ok, mi hanno picchiato e tutto quanto, insomma noi abbiamo avvenuto il gruppo, abbiamo detto che comunque volevano andare via. Il tenente cercava, il tenente della casa di Malintino, si trova in media, no dai ragazzi avete suonato tardissimo, vi ospitiamo noi, vi prendiamo un nuovo hotel, comunque cercava di sdrammatizzare una cosa che comunque era fatta. Ecco, la sostanza era questa. Quindi, insomma, ci tengo a precisare, a ricordare, a ribadire quello che hai detto, insomma, che nel momento in cui si è capito che siete, insomma, personaggi che avrebbero potuto avere una certa rilevanza mediatica, evidentemente è subito cambiato l'atteggiamento che c'è stato da parte di queste persone, che però mi sembra che tu hai detto al capitano anche praticamente quasi ammesso, dicendo probabilmente… No, lui ha parlato anche con il tour manager dicendo, ma sarà stato qualcuno nel mio che ha fatto una cazzata, comunque adesso se lo prendo e gli faccio il culo, se volete delle scuse, delle scuse, cazzeranno dei topi, dei topi in stanza, in baglio di questo caso, ci hanno avvicinato. Insomma, sul vostro comunicato un passaggio che sicuramente fa riflettere, fa riflettere molto e anche, insomma, dove dite che per alcuni minuti vi siete, insomma, sentiti in balia di questi personaggi che evidentemente hanno operato, come molte altre volte, questo abuso di potere, vi siete, insomma, avete forse capito bene quello che poteva essere successo e la sensazione che possono avere provato, insomma, le numerose vittime dell'abuso di potere. Assolutamente, assolutamente, ed è per questo motivo che comunque non volevamo rimanere lì un secondo di più e non volevamo far passare questa cosa come quella, l'affanculo, ci hanno spruzzato un po' di gasosticanti, andiamocene a casa, no, questa volta bisognava far sapere, bisognava che la gente capisca che gente c'è, che lavoro fa, che lavoro si prepara a fare, che, insomma, la realtà è questa. E tra l'altro, insomma, porto dell'ordine che probabilmente erano reduci da quella che è stato l'assalto e l'aggressione che c'è stata al presidio di Chiomonte nei giorni precedenti. Guarda, io sinceramente non ti so dire di che reparto sono, comunque penso che non sia neanche tanto difficile scoprirlo, penso che qualcuno lo saprà, qualche giornalista comunque saprà chi è a dormire lì, perché al fine è un hotel, non è una caserma, quindi sicuramente erano di quel tipo di reparto, perché appena siamo arrivati c'erano comunque due carabinieri in divisa e la divisa era quella antisommossa, non so se dovevano iniziare il turno o dovevano iniziare il turno, però, cioè, sicuramente fanno quel lavoro. Certo, certo. E nulla, quindi, insomma, carabinieri che, insomma, se non sono stati loro personalmente, sicuramente tra i loro colleghi c'erano quelli che hanno, appunto, fatto l'operazione a Chiomonte, che poi non so se hai seguito gli ultimi sviluppi, c'è stato poi anche al termine, quindi quando loro hanno preso possesso del presidio di Chiomonte dopo aver cacciato via, insomma, migliaia di manifestanti con centinaia e centinaia di tassi da primogini, sono entrati nel presidio e tanto per sfogarsi, come probabilmente hanno fatto anche ieri sera con voi, hanno devastato le tende dei manifestanti con tagli... C'hanno defecato dentro, ho sentito, hanno fatto delle verità allucinanti, no? Comunque la realtà è questa, è giusto che la gente sappia qual è la realtà, è giusto che magari i vertici di queste persone sappiano come stanno lavorando e che magari incominciano a darsi una regolata, perché non esiste. Ecco, io ti ripeto, noi abbiamo fatto uscire questa storia soprattutto perché abbiamo pensato che se non fossero stati pancreas, io non so, secondo me sarebbe finita in maltazza, ma sarebbe esatto così. Se non fossero stati pancreas, se non fosse stato quel tenente che ha detto cazzo, voi siete famosi, eravate vent'anni e tutto quanto, erino male. Se non veniva cambiato quell'atteggiamento io non so, se eravamo tre ragazze, tra virgolette, normali, come della figlia. Certo. Niente, allora, adesso voi siete in tour estivo, quindi non penso che domenica voi possiate raggiungerci... No, noi sogniamo, noi sogniamo, però... lì siamo vicini col cuore soprattutto con l'Ana. A noi ce lo sopportano direttamente in camera, lacrimogio. Esatto, esatto, perché così siete stati anche voi un po' con noi a Chiomonte. Ti ringrazio moltissimo intanto per questa breve intervista e anche insomma per aver avuto la voglia di far uscire questa storia che sicuramente insomma girerà molto anche per il fatto che siete i pancreas. Sì, ma dentro di noi questa volta non c'è, non si poteva dire niente. Cioè non esiste che possano fare quello che vogliono in questa maniera soprattutto. Non esiste. Perfetto, allora ti ringrazio, rinnoviamo ovviamente l'appello a tutti a partecipare al corteo che si terrà domenica 3 luglio con partenza alle 9 da Chiomonte. Sappiamo che voi sarete lì con noi, almeno con lo spirito. Ne facciamo in bocca al lupo sicuramente, saremo con lo spirito e anche di più. Anche a voi, grazie mille. Ciao, grazie. Ciao. 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 Ciao.